no cosa ho fatto mappa un po' dentro facciamo un animale ah ciao fanco penso che non passavi credo che ti è addormentato c'è volume basso il tuo gioco aiuto no quello mi fa male come va fanco mi stavo vedendo un abbiocco prima no il film è finito adesso due ore e venti minuti ah ammazza due ore e venti minuti ma è difficile ah c'è due di vite cinque vite no sei astuigliati ma non si segna guardalo sei bagato ci sei ah vabbè devo fare il start ok fa dire dove è andato è andato fuori mappa ho un po' bugato questo gioco ok no no ecco niente non si ripende perchè c'hai cinque vite qua poi non va vedi vabbè restart faccio ancora altre tentative no no ecco si fa qua eh no mica no è quasi un atto tentativo no ti piace fanco ehm ehm mai no no si è un bugato ehm è un gioco stano no un altro tentativo e lo cambiamo cambiamo il gioco non so provo facile dopo provo facile e dai e dai e niente oh poi ho un tentativo con facile dopo vediamo vediamo i donna main quit no quit è proprio da gioco su un sito doll good main good game si chiama no guardate 40 si no vado a fare sorpresi eh la mappa ecco andiamo ah mi dà più vite ho visto ma c'è solo un tentativo tutto muoio muoio ma perché muoio salzate il volume prima la passa vabbè 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 e altro il volume ah perché è uscito dal gioco sono uscito dal gioco vabbè 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 ma sai vai vai vabbè ovvioitungo il personaggio vabbè non mi mangia è salta no basta cambiamo giochino